Buonasera e ben trovati in questa terza edizione del Tg6. Si andrà in aula il prossimo 24 ottobre per il dibattimento dell'inchiesta Soget sui presunti crediti inesigibili del comune di Pescara. Ieri il Gup del Tribunale Pescarese ha rinviato a giudizio quattro persone, tra cui il sottosegretario alla giunta regionale Mario Mazzocca ed il capogruppo in regione di Forza Italia Lorenzo Sospiri. Il servizio di Alfredo Primante. Abuso d'ufficio in concorso, falsa attestazione a pubblico ufficiale e falso ideologico in concorso. Sono a vario titolo i reati per cui il Gup del Tribunale di Pescara Antonella Di Carlo, su richiesta del PM Gennaro Varone, ha rinviato a giudizio il sottosegretario alla presidenza della giunta regionale Mario Mazzocca, il capogruppo regionale di Forza Italia Lorenzo Sospiri, il direttore generale della Soget Gaetano Monaco e il responsabile del settore esecutivo della stessa Domenico Ludovico, nell'ambito del procedimento relativo all'inchiesta Soget sui presunti crediti inesigibili tra tasse e multe e affitti delle case popolari del comune di Pescara. Nel mirino della procura pescarese sono finiti due episodi di presunti favoritismi, il primo di cui avrebbe beneficiato l'attuale sottosegretario Mazzocca, che aveva un debito di 22.300 euro con ACA. Sempre secondo l'accusa, Monaco nel 2014 avrebbe disposto per ragioni di favoritismo la cancellazione dell'ipoteca su un immobile di Caramanico. Il direttore di Soget è anche accusato di aver disposto indebitamente la sospensione delle procedure esecutive di riscossione del credito. Il secondo episodio, finito sotto la lente di ingrandimento dei magistrati pescaresi, riguarda il capogruppo di Forza Italia in regione Abruzzo Lorenzo Sospiri, che tra il 2013 e il 2014 era oggetto di un pignoramento dei suoi compensi per un debito di poco meno di 13.000 euro, per sanzioni relative ad infrazione al codice della strada e per alcuni tributi comunali non versati. Sospiri, secondo l'accusa, avrebbe pressato la Soget a revocare i pignoramenti, ottenendo immotivate rateizzazioni. Mario Mazzocca ha scelto la via del silenzio in attesa di convocare una conferenza stampa per spiegare le sue ragioni, mentre Sospiri si è affidato ad un comunicato stampa, in cui ribadisce la sua estraneità ai fatti contestati, spiegando che le rateizzazioni non sono state utilizzate, vista la scelta di saldare tutto il debito in un'unica soluzione, prima che si venisse a sapere dell'inchiesta. Comunque, la prima udienza del processo è stata fissata per il prossimo 24 di ottobre. E con l'inizio della bella stagione purtroppo è iniziato anche il conto delle vittime del mare. Ieri pomeriggio a San Salvo ha perso la vita un 34enne originario del Beneventano, Giuseppe Fusco, inghiottito dal mare mentre cercava di salvare un'amica in difficoltà a causa delle condizioni proprio del mare, molto mosso in quel tratto di costa nei pressi del porto turistico di San Salvo Marina. Inutili i soccorsi degli uomini della Guardia Costiera, supportati dall'elicottero e dai carabinieri e dalla polizia locale. Il corpo del 34enne è stato tirato fuori usando il verricello dell'elicottero e grazie al lavoro dei sub. La ragazza di 28 anni, di origine romena, è stata salvata nel corso dell'intervento di soccorso. Salva anche l'altra componente della compagnia che è riuscita a nuoto a raggiungere la riva. Secondo la prima ricostruzione dei fatti, i tre ragazzi sarebbero entrati in acqua nel tratto di spiaggia libera antistante Rotel Milano. I tre sono andati in difficoltà a causa delle correnti sottomarine che si sono create attorno agli scogli dell'imboccatura del porto turistico. La 28enne è stata salvata dal bagnino della protezione civile Valtrigno. Per Fusco non c'è stato nulla da fare. Il procuratore capo di Vasto, Giampiero Di Florio, ha aperto un fascicolo d'inchiesta. È stata disposta la ricognizione cadaverica sulla salma all'obitorio del San Pio di Vasto. Il Consiglio Comunale di Pescara ha dato il via libera ai lavori per il nuovo pronto soccorso dell'ospedale. Paolo Renzetti. Il pronto soccorso dell'ospedale civile di Pescara raddoppia. Partiranno a breve i lavori di ristrutturazione e ampliamento dopo l'ok votato ad ampia maggioranza in Consiglio Comunale. Vice sindaco Blasioli, una bella notizia per tutti gli utenti. Una bella notizia che è stata resa possibile proprio dal voto a larga maggioranza di tutto il Consiglio Comunale. Questo significherà che il pronto soccorso di Pescara diventa il pronto soccorso più grande d'Abruzzo e tra i più grandi d'Italia. Un pronto soccorso che può ospitare quindi con comodità pazienti, anziani, adulti e bambini in maniera separata tra loro e tante altre strutture. Tra l'altro anche l'eliminazione di un record in negativo che aveva l'attuale pronto soccorso, quello che le ambulanze entrano ed escono in retromarcia. Insomma, tanto lavoro che adesso inizierà. Il permesso e il rilascio verrà eseguito appunto questa settimana. Quattro mesi di tempo per eseguire questo lavoro. Il manager dell'ASL, Armando Mancini, con cui mi sono sentito qualche giorno fa e che ringrazio naturalmente per la collaborazione che è pronta a far iniziare questi lavori. È una struttura che sicuramente caratterizzerà tutta l'impresa sanitaria della nostra regione. Ci sarà poi una rivoluzione del traffico proprio attorno al nuovo ospedale. Sì, questo stiamo concordando adesso con i tecnici del comune, con la direzione generale dell'ASL, perché il pronto soccorso che raddoppierà negli spazi, si entrerà con le ambulanze da una parte e si uscirà dall'altra. Questo significa che bisognerà modificare la viabilità tra via Montefaito e via Fonte Romana, che è già molto complicata di per sé. E stiamo cercando di realizzare, di progettare adesso una rotatoria concordando appunto con il vertice dell'ASL, il modo migliore per allocarla sul territorio. Il comune di Chieti ha presentato delle osservazioni al progetto del metanodotto Larino Chieti. Il nuovo tracciato riprende le osservazioni e nel territorio comunale di Chieti non interesserà Abitati, un'opera che l'assessore del comune Colantonio definisce marginale. Il progetto passerà in Consiglio Comunale il prossimo 20 giugno. Termina nell'agro di località Brecciarola a Chieti il percorso del metanodotto della società Gasdotti, che parte da Larino in Molise. Nel capologo Tiatino, spiega l'assessore comunale Mario Colantonio, il tracciato dell'infrastruttura occuperebbe poco più di 1,2 km e non interessa Abitati. Il comune di Chieti ha presentato alcune osservazioni al progetto, ottenendo le modifiche richieste per il percorso, che avrebbe tra l'altro attraversato il campo da golfo comunale. Adesso invece è previsto un tunnel. In fase di loro studio preliminare non avevano tenuto conto che in questa zona era stata rilasciata un'autorizzazione per questo distributore di carburanti che abbiamo proprio al nostro fianco. Per cui anche questa è stata data come segnalazione, come osservazione e c'è stata anche una proprietà privata a monte di questa posizione che ha osservato che l'attraversamento della linea del metanodotto creava di fatto una frantumazione centrale di questo terreno a disposizione. Per cui nel riproporre il tracciato hanno recepito le osservazioni, hanno ripresentato un nuovo elaborato. Il territorio comunale di Chieti c'è da premettere che è attraversato da un poco più di 1.200 metri da questa linea, per cui è un passaggio marginale e non interessa Abitati. Cioè centri abitati, non ci sono case a ridosso della condotta. È un'opera marginale sul territorio tiatino, commenta l'assessore Colantonio, sottolineando che nell'area vi sono già altri impianti. L'elettrodotto Villanova-Egissi, recentemente realizzato da Terna, è un gasdotto della SNAM. Considerate che tutto questo territorio è attraversato da una conduttura di alta pressione di altro gestore del metano che va ben oltre questa struttura ed è attraversata dagli anni 60. Cioè la società SNAM che gestiva tutto l'attraversamento, la portata del metano in centro-sud, attraversa tutta la Val Pescara, proprio a ridosso qui della Tiburtina passa una tubazione di grande dimensione. Il progetto del metanodotto Larino Chieti approderà in consiglio comunale a Chieti il 20 giugno per la necessaria approvazione. E' chiaro che questo atto andrà in consiglio comunale, noi, io come amministratore, non ho fatto altro che prendere la progettazione che aveva recepito a monte le nostre osservazioni, lo portiamo in consiglio comunale, il consiglio comunale è sovrano sulle proprie scelte. La CGL di Teramo denuncia e chiede aiuto al territorio per risolvere la drammatica situazione delle 400 lavoratrici impiegate nelle pulizie delle scuole. Da gennaio percepiscono appena 150 euro al mese, sono in arrivo tagli agli organici scolastici. Tania Bonici Castelli. Ci sono 400 lavoratrici in provincia di Teramo impiegate nel settore delle pulizie nelle scuole che da gennaio scorso percepiscono un salario di circa 150 euro al mese, un quinto del loro stipendio per disguidi burocratici. E' come se questo non bastasse, la tabella degli organici 2017-2018, arrivata sul tavolo degli uffici scolastici abruzzesi, sono allarmanti. Ci sono 69 docenti in meno, 18 sono nel Teramano. I sindacati, che avevano avuto rassicurazioni circa la conferma degli organici in considerazione della particolare situazione delle aree terremotate, sono preoccupati ed hanno chiesto un confronto con le forze del territorio, Presidente della provincia, sindaci e dirigenti scolastici. I lavoratori che fanno nelle pulizie nelle scuole, che hanno una quota, un'ora e mezza più o meno del loro lavoro impiegato solo sulle pulizie, hanno le restanti sei ore giornaliere impiegate nelle cosiddette scuole belle, che sarebbero i servizi, le pitture, insomma una serie di servizi che i dirigenti scolastici possono acquistare dal fondo che è stanziato dal Ministero. Il MIUR ha stanziato questo fondo, ma ad oggi ancora non iniziano i lavori. Il problema è che le persone sono a casa senza lavoro e noi stiamo discutendo con le aziende su come devono essere pagati, però il problema è a monte sul fatto che comunque ancora non sono avviati lavori di qualche genere, comunque quantomeno. Per questo abbiamo chiesto alla provincia di convocare sia i sindaci sia i dirigenti scolastici in maniera tale da confrontarci con chi può risolvere questo problema. Il Presidente della provincia di Teramo, Renzo Di Sabatino, dopo una serie di incontri con sindacati e operatori del mondo della scuola, ha scritto alla Ministra della pubblica istruzione, Valeria Fedeli, chiedendo conto di quanto sta accadendo e proponendo un confronto sulle ragioni dell'Abruzzo. Ho fatto partire una lettera con la quale segnalo la contraddizione, la contraddittorietà degli atti che il Ministero ha fatto per quanto riguarda la provincia di Teramo. C'è un taglio di organico di 69 docenti, di cui 18 in provincia di Teramo, in allegato a una nota del direttore generale in cui invece dice che per le zone colpite dal terremoto si può andare in deroga alla normativa. I numeri sono del dirigente dell'ufficio scolastico, il quale però mi dice che con questi ulteriori tagli ha qualche difficoltà a rispettare addirittura la normativa sul numero degli alunni e sulla necessità che in alcune situazioni per la presenza di ragazzi diversamente abili il parametro non riesce sempre a rispettarlo e questo non si può fare. Torniamo a Pescara dove il centrodestra in comune si schiera al fianco dei residenti di via Cesare Battisti che hanno diffidato il comune per la movida rumorosa. Sostanzialmente i punti che noi abbiamo voluto sottolineare sono quelli di un intervento assolutamente più massiccio della Polizia Municipale per controllare queste attività e soprattutto le attività devono avere dei limiti sia ad orario ma anche soprattutto di spazi. Gli spazi che sono quelli esterni che devono essere limitati pari al 100% delle aree dei locali che svolgono queste attività di somministrazione non solo di bevande ma anche di ristorazione. Siamo arrivati a questa determinazione perché indubbiamente pungolati anche dai vari interventi in commissione dei residenti e degli stessi commercianti devo dire che vogliono anche loro una regolamentazione sicuramente più serrata e più stringente perché oggi come oggi la situazione all'interno non solo comunque del quadrilatero della movida, quella più nota come via Cesare Battisti e del mercato coperto ma anche delle altre che vengono interessate deve essere regolamentata. La sistemazione della zona centrale di Pescara e quindi la rivalutazione e la riqualificazione di quella zona non doveva avere questo scopo e non aveva questo scopo perché è stata fatta ovviamente ideata e portata avanti dal centro-destra oggi come oggi è sotto gli occhi di tutti che è sfuggita completamente di mano. Noi abbiamo proposto anche oltre a queste misure che andranno presto in consiglio per la discussione anche l'applicazione dei DASPO urgenti, ciò in relazione al decreto Minniti che è uscito recentemente e proprio per limitare e soprattutto per porre un freno a tutte quelle attività illecite di accattonaggio, abusivismo con uso non solo di sostanze stupefacenti e violenze sui minori e con l'utilizzo dei minori per quanto riguarda questo tipo di attività. Quindi vogliamo con la proposta di delibera comunale indirizzare il sindaco affinché adotti con urgenza dei provvedimenti che vengono concretizzati con l'allontanamento della città ed altro. Sarà presentato domani mattina all'Istituto d'Arte Castellano il progetto dal titolo Destinazione Castelli. Si tratta di un percorso culturale pensato dall'avvocato Walter Mazzitti per il rilancio di questo borgo straordinario famoso nel mondo per la sua maiolica. Lo storico soffitto della chiesa di San Donato di Castelli in provincia di Teramo realizzata dai maestri castellani con mille mattoni maiolicati tra il 1615 e il 1617 è stata definita dallo scrittore Carlo Levi la sistina della maiolica italiana e quest'anno compie 400 anni di vita. Un'occasione straordinaria per il rilancio della visibilità e della rinascita di Castelli che passerà attraverso un progetto pensato dall'avvocato terramano Walter Mazzitti che immagina un percorso turistico in grado di mettere in connessione il patrimonio storico artistico risparmiato dal terremoto e renderlo fruibile al mondo. Sì, perché Castelli è davvero un luogo famoso al mondo. Per chi sceglie Destinazione Castelli che cosa trova? Un nuovo percorso disegnato appunto da questo progetto che mira a esaltare e mettere in evidenza quello che è il grande patrimonio storico artistico di Castelli che non è stato fortunatamente danneggiato dal terremoto. Ovviamente si parte dalla scuola, dall'antica scuola d'arte realizzata nel 1906, il primo istituto d'arte d'Italia che oggi si chiama Liceo Artistico per il Design che è un patrimonio straordinario all'interno del quale è custodito il famoso presepe monumentale degli anni 50 che è un unicum a livello nazionale, una grandissima esposizione di oltre 300 pezzi di arte contemporanea. Questo è un fatto già assolutamente assodato e importante. Poi c'è ovviamente scendendo in giù la cosiddetta Cappella Sistina della Maiolica italiana che rappresenta anch'esso un unicum assolutamente straordinario che fortunatamente non è stato toccato dal terremoto. Poi c'è il museo provvisorio al centro del paese in attesa della ricostruzione invece del museo storico della ceramica castellana che è stato purtroppo molto danneggiato dai vari eventi sismici. E poi ci sono anche le botteghe storiche che possono essere aperte al pubblico con eventi particolari. Castelli è famoso in tutto il mondo? Castelli rappresenta per noi un potenziale straordinario, tant'è che l'obiettivo finale è quello di pervenire alla realizzazione di una grande mostra che in questo caso dovremmo ottenere a Roma per riunire in un'altra unica grande occasione perché la prima fu nella fine degli anni Ottanta tutta la maiolica cinquecentesca rinascimentale prodotta a Castelli e che si trova distribuita nei più grandi musei del mondo. Il trofeo Matteotti si disputerà regolarmente il prossimo 16 luglio ma l'amarezza del patron Renato Ricci resta per la mancata assegnazione dei campionati italiani e per la mancata assegnazione dei fondi da parte del Comune. Presidente Ricci, il Matteotti si farà, si correrà regolarmente domenica 16 luglio però c'è tanta amarezza in questi giorni perché il campionato italiano non si farà a Pescara e perché lei contava, sperava in qualche contributo da parte del Comune contributo che fino ad oggi non è arrivato. Ma vabbè, in settant'anni era da vigliacchi non fare il trofeo Matteotti considerando che tutti quando parlano di liberazione dell'Italia io nel 1945 ancora nascevo come nemmeno voi ma dopo tre mesi poche persone con Fulvio Perna hanno organizzato in un mese, in un mese il primo trofeo Matteotti con grossi campioni noi ci dovremmo vergognare che non siamo capaci in tanti anni ad organizzare un campionato italiano e riconoscere il trofeo Matteotti i settant'anni di una gloriosa storia su questa manifestazione. Lei è arrabbiato con la federazione? Ma guardi, io sono arrabbiato non solo con la federazione forse non solo io, è l'italiano che è arrabbiato è arrabbiato contro tutto e contro tutti noi viviamo in una situazione che forse nessuno ha mai pensato noi abbiamo la fortuna forse di passare nella storia fra mille anni di essere, magari di vivere in una situazione dove ci sono stati due papi noi abbiamo due papi, non è che è successo in duemila anni altre volte penso e abbiamo anche due presidenti della Repubblica uno che è una bravissima persona e un altro che è detto delle regole e quindi è chiaro che stiamo vivendo una storia completamente sballata da 40 anni, forse senza fare politica da quando è successo Tangentopoli, da Di Pietro non è cambiato niente, 30 anni, peggio di prima e quindi io come imprenditore dico la verità fra 5 anni se dovessi pensare cosa fare cosa che prima lo potevo sicuramente organizzare adesso non lo so perché tutti quanti siamo in una situazione dove ci portano da una parte e dall'altra quindi anche il Trofeo Matteotti sicuramente vi posso assicurare che faccio il settantesimo anno per onorare non solo Pescara perché io ci tengo tanto a Pescara e tutte le persone che sono affezionate al Trofeo Matteotti nonni, padri eccetera eccetera è per l'Abruzzo ma sicuramente potete essere certi io nel settantunesimo spero che entri qualcuno che glielo regalo tutto quello che volete ma io sicuramente non lo organizzo più manifestazione conclusiva nel cuore di Teramo dei campionati nazionali studenteschi di pallavolo hanno partecipato all'iniziativa del MIUR oltre 400 atleti provenienti da tutte le regioni d'Italia come gesto di solidarietà verso le popolazioni colpite dal terremoto Teramo si rianima grazie allo sport in attesa della famosissima Coppa Interamnia che si svolgerà dal 5 all'11 luglio la città ha accolto oltre 400 studenti provenienti da tutta Italia per i campionati nazionali studenteschi di pallavolo il torneo si è svolto sulla costa terramana mentre per la premiazione è stata scelta Piazza Martiri cuore del capoluogo aprutino segnato duramente dagli ultimi eventi sismici una bella iniziativa del MIUR che è stata portata avanti dal CONI e dall'ufficio scolastico di Teramo sì in effetti nonostante le difficoltà è un bel momento per lo sport nella scuola Teramo quest'anno ci sono state parecchie iniziative di successo tra tutte forse mi piace ricordare Special Olympics un'interessantissima iniziativa di connubio tra sport e integrazione che ha visto la provincia di Teramo primeggiare come partecipazione addirittura a livello nazionale motivo per cui la federazione di basket ha deciso di fornire una fornitura gratuita di 1000 euro in palloni da basket da dare alle scuole terramane quindi diciamo nonostante le difficoltà noi avvertiamo una forte spinta da parte del movimento sportivo all'interno delle scuole terramane Dottor Nardocci ma come stanno le palestre nelle nostre scuole? Le palestre non benissimo ci sono parecchie scuole in difficoltà sia a Teramo città ma soprattutto forse nell'entroterra da Montori a Crognaleto gli antiterritoriali stanno facendo il possibile per risistemare un po' tutta l'edilizia comprese le palestre però la situazione è ancora abbastanza critica e nonostante questo diciamo comunque i successi che ci sono stati valgono ancora di più Ora la pagina dello sport non solo l'attacco il Pescara cerca dei puntelli per il reparto difensivo in vista del prossimo campionato di Serie B dopo 365 giorni intanto il Pescara ricorda il giorno della promozione ottenuta lo scorso anno dopo l'1-1 di Trapani mandando in visibilio una città intera vediamo Potrebbe essere Biagio Meccariello uno dei principali rinforzi per la difesa del Pescara originario di Benevento da 5 anni milita nella Ternana e nelle ultime stagioni ne è diventato il perno della retroguardia oltre 120 presenze con la maglia delle fere con cui Meccariello ha altri due anni di contratto per trattare con la società lo staff del Delfino dovrà comunque attendere l'esito della trattativa che potrebbe portare l'unico usano a rilevare il club rosso-verde che da tempo non naviga in acque tranquille dal punto di vista economico se Meccariello è un nome appetito da Zeman è altrettanto vero che la pattuglia di centrali bianca-azzurri è ricca e bisognerà di smetterne tra questi chi ha più chance di restare è Michele Fornasier per caratteristiche, età e durata del contratto se trovare mercato per i centrali bianca-azzurri può non essere semplice discorso diverso per i terzini in particolare Cristiano Biraghi che ha su di sé gli occhi di diversi club di Serie A in particolare sono Bologna e Udinese ad essere in vantaggio sul difensore milanese sul quale però c'è anche l'interesse della Sampdoria Biraghi è uno di quei giocatori che possono garantire una buona plusvalenza da realizzare entro il mese di giugno per esigenze legate alla chiusura del bilancio a centrocampo ci sono altri profili che potrebbero garantire plusvalenze in particolare il capitano Leian Memuschai su cui è sempre vivo l'interesse del Bologna ma ora anche la neopromossa Spal sta facendo un pensierino e poi Gaston Brugman anche se l'uruguayano si è fatto apprezzare da Zeman nelle ultime uscite e potrebbe essere un giocatore da cui ripartire per la prossima stagione stagione nella quale in cadetteria non ci sarà il benevento dell'ex Marco Baroni che ieri battendo il Carpi nella finale di ritorno ha centrato la prima storica promozione assoluta in Serie A mentre proprio un anno fa 9 giugno 2016 proprio il Pescara festeggiava la promozione nella massima serie con il pareggio di Trapani una data ben impressa nella mente dell'ex tecnico Massimo Oddo che su Instagram stamani ha postato una foto dei festeggiamenti dello stadio provinciale scrivendo uno dei giorni più importanti e indimenticabili della mia vita Oddo ancora sotto contratto col Pescara potrebbe a breve trovare una nuova sistemazione in Serie B e in pole position per la panchina del Frosinone quella del Bari in alternativa E ora la Lega Pro in casa Teramo la questione principale adesso diventa quella legata al nome del futuro allenatore in pole position c'è Antonino Asta che sembra molto vicino all'accordo con il club Bianco Rosso Jacopo Forcella Antonino Asta davanti a tutti in una virtuale griglia di partenza per scegliere il prossimo allenatore del Teramo l'ex tecnico di Monza Bassano Lecce Feral Pisalò sembra aver scavato un piccolo solco rispetto ai concorrenti più agguerriti o forse sarebbe il caso di dire al concorrente più agguerrito perché in questo momento a contendere la panchina bianco-rossa ad Asta sembra esserci realisticamente solo Ottavio Palladini il duellante più accreditato quello con le argomentazioni migliori per sopravvanzare il candidato favorito è probabile che già nella giornata di oggi ci sia il contatto diretto tra il Teramo e Asta con il nuovo direttore sportivo Giorgio Repetto che dovrà valutare se il profilo è adatto per la stagione della rivincita la sensazione è che il diavolo cambia la strada rispetto alla scelta principale solamente nel momento in cui con Asta le cose non dovessero andare nel senso sperato in quel caso e solo in quel caso Palladini avrebbe strada libera per l'eventuale sorpasso l'accelerata dunque ci sarà in queste ore visto che il Teramo ha fretta di iniziare a programmare la campagna acquisti ma soprattutto quella delle cessioni che dovrà riguardare per forza di cose buona parte dei componenti dell'attuale organico se Asta come sembra dovesse essere il prescelto anche la rosa andrà rifondata sui canoni del 4-3 il modulo prediletto dal tecnico che potrebbe diventare il nuovo credo bianco-rosso e che rimarrebbe comunque il sistema di gioco preferito anche nel caso di arrivo di Palladini il weekend questo weekend potrebbe risultare decisivo per la fumata bianca come già accaduto col direttore sportivo che già domattina potrebbe essere presentato alla stampa e alla tifoseria in questo modo il Teramo riempirebbe la casella mancante e sarebbe pronto per cominciare la nuova avventura a circa 20 giorni dalla scomparsa il CT della Nazionale di Pallanuoto Sandro Campagna in Abruzzo per uno stage ha ricordato la figura di Gabriele Pomiglio ricordava gli anni d'oro della Pallanuoto pescarese questi anni che sono indissolubilmente legati alla figura di Gabriele Pomiglio scomparso pochi giorni fa e lei lo ha conosciuto bene non bene benissimo lavora anche con Amedeo Pomiglio che è nel suo staff un ricordo di Gabriele Pomiglio ma Gabriele è stato uno forse il più bravo dirigente sportivo palanotistico che noi abbiamo avuto è stato il primo dirigente a portare gli sponsor in piscina è stato il primo dirigente ad andare verso un professionismo andando a prendere giocatori importanti anche dall'estero come Manel Estiarte dalla sua passione dal suo amore della palanota per Pescara ha permesso a questa città di poter primeggiare in Italia e in Europa in una realtà dove non c'era grande tradizione come in Liguria come in Campania come a Roma o anche in Sicilia per cui è stato fatto un autentico miracolo e questo Gabriele ha la sua grandissima importanza come l'hanno avuto a Geppino D'Altrui come l'hanno avuto tanti campioni che sono passati sia allenatori che tecnici qui a Pescara Manel Estiarte su tutti quindi è una figura che mancherà tanto dalla città ma è una figura che mancherà tanto alla nostra palanoto si era dedicato ultimamente all'attività dei ragazzi del festival dell'Abbawab dello Yellow Bowl dove dal niente praticamente ha tirato su un festival che adesso alla sua decima edizione parteciperanno 1200 bambini come se fosse un'olimpiade e quindi dà una ricaduta di entusiasmo a quella fascia di età che magari avrebbero abbandonato le piscine e invece magari tornano a casa sperando di poter continuare a giocare a palanoto Ed è tutto per questa terza edizione del TG6 il nostro notiziario tornerà domani alle ore 14 grazie per l'attenzione e buonanotte Grazie a tutti